Questo video è stato prodotto da El Vega, Riccardo Zigarini, Menad, Nick Seiri, Giovanni Lanzoni, Matteo Bosi, Elia Morini, Daniele Sozzi, Andrea Aimaretti e Davide Gelmini. I miliardi di Arsène Lupin di Maurice Leblanc Lettura di libri in pillole Illustrazione di Lorenzo Bisogni Musica di Zero Capitolo II Undici uomini si riuniscono Senza farsi vedere, Patricia seguì i due uomini. Non era spinta da banale curiosità o interesse personale, ma non dimenticava le parole di James McCullermy a proposito dei rischi di un'avventura che avrebbe potuto rivelarsi funesta. Non era forse sotto il peso di una precisa minaccia? Patricia non doveva leggere in quelle parole un avvertimento di cui tener conto? Non era suo dovere vegliare su di lui? La spedizione notturna di McCullermy e Fields era senza dubbio collegata al misterioso progetto. Lei quindi si trovava nella necessità di agire. I due amici camminavano senza voltarsi, a braccetto discutevano animatamente. McCullermy reggeva con la mano libera la cartella di pelle color ruggine, Frederick Fields giocherellava con il bastone da passeggio. Camminarono a lungo, percorrendo vie che Patricia, sempre all'inseguimento, non aveva mai attraversato e che invece loro imboccavano senza esitazione, come se fosse un tragitto familiare. Infine, girarono attorno a una piazza quadrata. Un lato di questa era abbellito da un colonnato, sotto le cui volte si allineavano negozi che a quell'ora erano chiusi. Molti erano perfettamente identici, stessa struttura, stesse dimensioni e stessa decorazione esterna. Erano separati da porte che davano accesso agli alloggi al piano superiore. McCullermy si fermò bruscamente e aprì una di quelle porte. Patricia, celandosi a poca distanza nell'ombra delle arcate, intravide i primi gradini di una scala che conduceva al mezzanino. McCullermy, seguito da Frederick Fields, iniziò a salire mentre la porta si chiudeva. Il direttore di pronto polizia dovette restare lassù non più di un minuto, poi ridiscendere perché Patricia vide il negozio a pian terreno illuminarsi, una luce filtrava attraverso le fessure della saracinesca. Ci furono alcuni minuti di assoluto silenzio. Suonarono le dieci, quasi subito comparvero due uomini che con aria indifferente gironzolarono sotto le arcate. Patricia si dissimulò ancora di più nell'ombra dove era acquattata. I due uomini arrivarono al negozio e uno di loro batte sulla saracinesca con un oggetto metallico che teneva in mano. Immediatamente dall'interno fu aperta una porticina, i due si introdussero con prontezza e il pertugio si richiuse. Poi Patricia, sempre allerta e con il cuore che le batteva, distinse un gruppo di quattro uomini che procedevano senza fretta, come passeggiatori sfaccendati. Anch'essi si fermarono davanti al negozio e bussarono sulla saracinesca. Anche per loro si aprì la porticina dietro la quale sparirono. Giunse poi un uomo da solo che allo stesso modo bussò ed entrò, poi un altro e come ultimo un individuo di alta statura che nascondeva il volto sotto un cappello calato sugli occhi e una larga sciarpa di lana grigia. Undici in tutto, contò Patricia, non vedendo arrivare più nessuno dopo un'attesa di alcuni minuti. Undici uomini, compresi McCullermy e Fields, che avevano preceduto gli altri. Quali altri? Chi erano quelle persone che sembravano appartenere alle classi sociali più diverse? E soprattutto, che ci facevano lì? Per quale scopo misterioso si erano riuniti di notte in quel negozio dall'aspetto abbandonato? In un quartiere così remoto, poi. Patricia rammentò le parole del suo direttore. Era quella l'impresa grandiosa cui aveva accennato e nella quale si era impegnato con Frederick Fields? L'impresa azzardata e pericolosa che avrebbe forse comportato la morte di McCullermy? Patricia fu assalita dall'ansia e dal panico. E se avessero ucciso McCullermy in quel preciso istante? Pensò di allontanarsi e fermare il primo passante per chiedergli dove si trovasse il più vicino posto di polizia, ma subito si riprese. Aveva diritto di intromettersi in un'impresa di cui ignorava tutto e che forse non comportava alcun pericolo? McCullermy aveva agito con piena cognizione di causa organizzando quella riunione. Se correva dei rischi, li aveva deliberatamente accettati. Per questi motivi, come avrebbe potuto Patricia ostacolare i suoi piani facendo intervenire la polizia non certo discreta? Non avrebbe in tal modo scatenato pericoli reali per evitare pericoli immaginari? La giovane donna rimase in attesa senza muoversi né mostrarsi. Trascorsero i minuti, un'ora, due ore e finalmente la porta nella Saracinesca si riaprì. Ne uscirono tre, quattro, cinque uomini in totale dieci e si dispersero sotto lo sguardo attento di Patricia, sempre accuratamente nascosta. Vide l'uomo con la sciarpa, credette di riconoscere Frederick Fields ma non distinse James McCullermy. Aspettò ancora un po', all'improvviso vide riapparire l'uomo con la sciarpa, ritornava sui suoi passi verso il negozio, come in precedenza bussò e la porticina si aprì. Passarono non più di quattro o cinque secondi e l'uomo sgusciò dalla porta. Aveva in mano la cartella color ruggine di McCullermy. Si allontanò in fretta. Le sue mosse sembrarono sospette a Patricia, perché quell'uomo portava con sé la preziosa cartella dove era racchiuso il segreto dell'importante progetto. La giovane donna si chiese se attendere l'uscita di McCullermy o inseguire l'uomo con la sciarpa. Senza riflettere troppo, preferì la seconda soluzione. A passo veloce fu sulle sue tracce. L'uomo camminava svelto e sembrava inquieto guardandosi intorno e alle spalle. Patricia doveva usare molta cautela per non farsi scoprire. Non osava avvicinarsi e temeva di perderlo di vista alla svolta di una delle due vie di quel quartiere sconosciuto. All'improvviso, l'uomo si mise a correre. Anche Patricia corse e si ritrovò in una piazza dove confluivano parecchie strade. Quale imboccare? L'uomo era sparito. Si fermò ansimando. L'inseguimento era stato quindi inutile. Stizzita e quasi vergognandosi della propria goffagine, scrollò le spalle nei confronti di se stessa. Eppure si credeva abile. Ah, che pessimo detective era, invece. Dopo ore di sorveglianza, ecco il risultato ottenuto. Si accorgeva in quel momento di non conoscere neppure l'indirizzo del misterioso negozio in cui si erano riuniti quei misteriosi personaggi. Non sarebbe riuscita a ritrovarlo. C'erano delle arcate, certo, ma anche se qualcuno ve l'avesse ricondotta, avrebbe potuto riconoscere il posto. Una sera sprecata. Questo era il risultato dei suoi sforzi. Disorientata, scontenta di se stessa, errò all'avventura, seguì un'ampia strada animata con barda le luci abbaglianti e frequentati da una losca clientela. Si udivano grida, risate. Patricia trepidante camminava veloce, senza osare chiedere indicazioni. Nessun poliziotto in vista. Due orribili figuri la stavano seguendo, cercando di abbordarla. Accelerò il passo. Folate di aria pungente le sferzarono il viso. Capì di essere nei pressi del porto. Il luogo si faceva sempre più cupo, deserto e silenzioso. Si ritrovò su una banchina ingombra di materiali, sacchi di sabbia e di gesso, cataste di legna e pile di barilli pieni o vuoti. La giovane donna trasali bruscamente quando una mano brutale le afferrò la spalla. Ah, eccoti finalmente, Patricia! Che fortunato incontro! Ora non ti mollo più, bella mia. È inutile che tu opponga resistenza. Benché non potesse riconoscere né la voce, né le sembianze dell'aggressore, la donna si convinse che era il cosiddetto selvaggio, The Ruff, l'uomo che lo stesso pomeriggio l'aveva assalita sulle scale di pronto polizia. Tentò di liberarsi, ma la mano che la stringeva sembrava d'acciaio. L'uomo continuò con tono ironico e minaccioso. Colgo l'occasione per avvertirti, piccola mia, che stai prendendo una cattiva strada. Attenta! Ora ti dai allo spionaggio, eh? Per conto di chi? Per amore di chi? Per il vecchio Allermi, eh? Formidabile! Dopo il figlio, il padre! Tutto rimane in famiglia. Ascoltami bene, cara mia. Se dici una parola su quello che hai visto stasera, sei spacciata! Sei spacciata! Tu e il piccolo Rodolfo! Anche il tuo parco lo soffrirà, te lo giuro! D'accordo? Eh? Allora? Acqua in bocca! Non immischiarti nei nostri affari se non vuoi che ci occupiamo dei tuoi! Capito? Eh? E per suggellare il patto, un bacio, tesoro! Uno solo, ma un vero bacio d'amore! Rafforzò la stretta, cercando di raggiungere la bocca che si sottraeva. La lotta del pomeriggio ricominciava. Patricia si dibatteva, sconvolta, senza osare gridare per paura di essere strangolata dal selvaggio che ringhiava Quanto sei scema! Un bacio e ti faccio entrare nell'affare! C'è una montagna di quattrini, ballo, ti ripeto! Una montagna di quattrini da trasformare il tuo Rodolfo in un duca, un principe o un re! E tu, rifiuti? Credi di arrivarci lavorando per McCullermy? Ma non fare l'idiota! Ai! brutta stronda! Come una gatta inferocita, Patricia l'aveva graffiato fino a fargli sanguinare il volto. Allora lui gridò Dammi una mano, Albert! Ragazzo! Un uomo vestito da marinaio, un colosso alto sei piedi, uscì dall'ombra della banchina e corse all'appello. Grazie al suo aiuto, il selvaggio atterrò Patricia piegandola in due. Trattieni la Albert! Aspetta, ecco una bella gabbietta da cui non potrà più graffiare né fuggire. Aveva avvistato uno dei barili vuoti sul molo. Aiutato dall'energumeno, trasportò la donna sempre piegata in due e la gettò brutalmente nel barile. Solo la testa sporgeva. Dai di guardi, Albert! ordinò il selvaggio. E se cerca di gridare uscire, dalle una zoccolata in testa che la faccia rientrare come una lumaca nel guscio. Tra un'ora sarò di ritorno. Sai dove vado, vero Patricia? Ho fatto solo la metà del lavoro. Lo devo terminare. Battiamo il ferro finché è caldo, eh? La fortuna è con noi. Approfittiamone e ti darò la parte che ti spetta. A presto! Se sentirai freddo, la mia camera è vicina al bar dell'oceano. Ti ci porterò per scaldarti. E tu, marinaio, ricordati la consegna. Una zoccolata in testa o un bacio per farla tacere? Le piace da morire! Ghignando, raccolse la cartella di pelle color ruggine che aveva lasciato su un sacco e poi si allontanò. Patricia, prigioniera nel barile, non provava fastidio per quella situazione ridicola. Era eccitata dalla paura e dal terrore cui ben presto si aggiunse il disgusto. Il marinaio, dopo la partenza del selvaggio, si era chinato su di lei avvicinando il proprio viso al suo tanto da farle sentire un alito appestato di vino e di fumo ne trasse in qualche modo sollievo sembra ti piaccia le disse con voce rauca e biascicata forse potremmo trovare un'intesa del selvaggio me ne frego tanto un bel bacio e ti tiro fuori dal barile prima tirami fuori sbottò patricia che vedeva nel ripugnante brutto un possibile salvatore me lo prometti vero insistette lui sospettoso certo quel che chiedi è così poco posso avere anche di più le domandò con una risata da ubriaco va bene mi fido afferrò il barile che rovesciò come eseguisse un esercizio da circo patricia uscì e in un sol balzo si rialzò dal terreno fangoso dammi il bacio ingiunse l'energumeno avvicinandosi a braccia aperte la donna arretrò per evitarlo un bacio e te l'ho promesso tutto ciò che vuoi non qui però fa troppo freddo potrebbe arrivare qualcuno dov'è la camera del selvaggio il bestione fece un gesto nel buio vedi la luce rossa laggiù è il bar dell'oceano ci vado disse patricia seguimi ti aspetto si dileguò leggera così eccitata dalla ritrovata libertà da non sentire la stanchezza d'altronde un crucio ben più grave la sillava le ultime parole del selvaggio l'avevano spaventata a quale altra metà del lavoro aveva all'uso che opera doveva completare aveva intenzione di uccidere qualcuno si precipitò verso la strada delle taverne ed entrò in quella dall'insegna rossa un caffè e un brandy ordinò al cameriere del bar dell'oceano dov'è il telefono il ragazzo la condusse alla cabina dove lei consultò l'elenco telefonico era perplessa riflettendo rapidamente si chiese vediamo chi posso avvisare la polizia no prima filz è di sicuro rientrato a casa sua e il pericolo è laggiù si frederick filz compose il numero con mano febbrile sentì che qualcuno dall'altro capo alzava la cornetta pronto pronto pronunciò con voce rauca per l'emozione inquieta ed esitante giunse la risposta di filz pronto chi parla lei mccallermy è appena arrivato il selvaggio patricia trasalì di orrore mettere in guardia filz no come avrebbe potuto il vecchio proteggere se stesso era il bandito che doveva intimorire quindi rispose voglio parlare proprio con lui da parte di mccallermy udì subito la voce roca e dura del selvaggio pronto chi è sono patricia voglio darti un consiglio sloggia ho avvisato la polizia dei tuoi intenti contro filz sloggia da lì all'istante ah sei tu disse lui senza turbarsi l'idiota di un marinaio ne avrà combinata una delle sue va bene me ne vado ho ancora cinque minuti e posso dire una parola al signor filz patricia fremette ma assunse un tono imperioso e duro attento selvaggio ho raccontato tutto le auto della polizia presto saranno lì e circonteranno la casa ti aspetta la sedia elettrica se commetterai un delitto grazie per l'interessamento rispose l'uomo con ironia allora devo sprecarmi tutto tacque e all'improvviso un grido soffocato un grido di agonia a maledetto mormorò patricia ansimante e sul punto di svenire il maledetto ucciso sconvolta riattaccò la cornetta e se la diede a gambe lanciando alcune monete al cameriere correndo fuori a perdifiato evitò il marinaio che arrivava avvistò per fortuna un taxi libero e vi salì dettò macchinalmente all'autista non l'indirizzo di filz o quello del giornale ma il proprio come l'animale ferito che cerca la sua tana si sentiva di colpo terribilmente debole stanca da morire desiderava coricarsi dormire e dimenticare il dramma ormai compiuto contro il quale non poteva nulla gli eventi erano più forti di lei dormì male di un sonno popolato da incubi orribili e nel mezzo della notte si svegliò pure in preda al ricordo di un'avventura che le sembrava sempre più tremenda l'episodio della cartella rubata accresceva la sensazione di angoscia non trasse tuttavia la deduzione logica che avrebbe dovuto affacciarsi nella sua mente ovvero che la cartella era stata sottratta a mccallermy solo con la forza era perfettamente consapevole che frederick filz era stato vittima del selvaggio ma neppure per un istante nutri timori riguardo a mccallermy non intuì nulla nessun presentimento la sfiorò l'indomani quando entrò al giornale fu molto stupita nel vedere il subuglio negli uffici l'agitarsi convulso in redazione e apprendere che il capo era stato ucciso da una coltellata al cuore in un negozio di piazza della libertà piazza della libertà era la piazza con le arcate si irrigidì per non svenire e non parlare la notizia la sconvolgeva si sentiva assalita dai più crudeli rimorsi avrebbe potuto salvare mccallermy avrebbe potuto fare qualcosa pensava solo a questo alla propria responsabilità nel crimine commesso il resto ossia il modo in cui la polizia era stata avvertita che informazioni avevano gli ispettori sul negozio sul proprietario sulle riunioni private che si tenevano dettagli che furono resi poi noti più tardi non le importavano in quel tragico momento in cui si rimproverava la propria inazione lesse però tutti i quotidiani della sera che riferivano dell'omicidio con informazioni diverse commenti vari e dati per lo più errati sulla vittima personaggio in vista la cui morte tragica e misteriosa suscitava nel pubblico grande scalpore gli stessi giornali riportavano un altro delitto sensazionale che per patricia non era certo una sorpresa non era stata informata al telefono nel momento stesso in cui era commesso si trattava dell'omicidio del procuratore frederic filz questi nel procinto di recarsi in europa la notte prima era stato ucciso a casa sua da uno sconosciuto che era andato a trovarlo e che lo aveva pugnalato al cuore esattamente come era stato colpito il direttore di pronto polizia c'era correlazione tra i due delitti si chiedevano i giornali le due vittime si conoscevano molto bene e avevano affari comuni la loro morte era stata decretata da una banda di gangster li avrebbero uccisi alla stessa ora tuttavia a casa di filz era stata forzata una cassaforte ed erano stati sottratti 50 mila dollari era dunque una semplice rapina patricia invece sapeva che la stessa mano criminale aveva colpito i due vecchi con quale scopo per conto di quale potere occulto il selvaggio era un criminale di grande elevatura o un semplice strumento voleva scoprirlo e per questo c'era un solo modo nel pomeriggio patricia fu convocata da henry allermy nell'ufficio della direzione del giornale di cui come figlio ed erede di james mccallermy aveva preso possesso senza emozione apparente la giovane donna rispose all'invito henry mccallermy aveva 30 anni patricia che non lo vedeva da anni ritrovò in lui ormai adulto i tratti del giovane che aveva amato un tempo ma la passione era svanita in entrambi si parlarono con la freddezza di due estranei signorina disse il giovane direttore l'ultima annotazione di mio padre sulla sua agenda la riguarda patricia a carattere energia e senso dell'organizzazione sarebbe perfetta come vice direttrice senza guardarla aggiunse per quanto possibile terrò conto del giudizio di mio padre ben inteso sempre che lei sia d'accordo con la stessa riservatezza la donna rispose credo signore che il modo migliore di servire il giornale sia di dedicarmi totalmente a vendicare suo padre tra poche ore mi imbarcherò per la francia ho prenotato un posto sull'île de france henry mccallermy stupito esclamò vai in francia sì dopo alcune parole di suo padre posso affermare che egli intendeva andarci presto allora allora credo che il viaggio in francia fosse collegato all'affare che ha provocato la morte del signor mccallermy ha delle prove niente di preciso è una semplice impressione nel momento in cui il giornale ha più bisogno di lei prende una decisione così grave per una semplice impressione osservò henry allermy con un po di ironia spesso per agire bisogna seguire le proprie intuizioni rispose con calma patricia ma deve accordarsi con la polizia non ne vedo la necessità non potrei fornire alla polizia alcuna informazione utile ci fu un momento di silenzio ha del denaro riprese henry mccallermy impressionato suo malgrado dalla risolutezza della giovane donna 2000 dollari che suo padre aveva versato alla cassa come anticipo per il mio futuro lavoro non è abbastanza se avrò bisogno di un ulteriore somma per ottenere risultati sarà avvisato signore ci conto arrivederci signorina mentre patricia usciva una giovane donna entrò in ufficio senza essere annunciata avvenente truccata molto elegante nel suo abito da lutto passò come un turbine vicino a patricia senza vederla e si gettò tra le braccia di henry gridando ti piace il mio nuovo capotto tesoro non trovi che sia perfetto per il lutto era la giovane moglie di henry allermy allora stabilita patricia si imbarcò sull'île de france era sola un'amica avrebbe dovuto portarle due o tre settimane più tardi suo figlio il piccolo rodolphe l'attraversata procurò subito alla giovane un grande riposo la solitudine tra i passeggeri estranei la calma della vita di bordo le procurarono evidenti benefici ci sono momenti in cui si vede chiaro solo chiudendo gli occhi il mare trasmette la serenità di cui si ha tanto bisogno in certi frangenti difficili e bui nei primi due giorni patricia non lasciò la cabina non udì alcun rumore a sinistra poiché la sua cabina era in fondo al corridoio e nessun rumore a destra il suo vicino non esce mai e preferisce stare a letto le aveva confidato lo steward il terzo giorno rientrando da una passeggiata sul ponte notò che la sua borsa da viaggio e i cassetti erano in disordine qualcuno vi aveva frugato ma chi aveva rovistato e soprattutto per cercare cosa patricia fece controllare i chiavistelli che da un lato e dall'altro bloccavano la porta comunicante erano intatti le serrature chiuse a doppia mandata impossibile entrare eppure qualcuno era entrato l'indomani nuova intrusione nuova perquisizione qualcuno in sua assenza aveva accesso alla cabina chi ancora una volta e a quale scopo nella speranza di ottenere informazioni si mescolò alla vita della nave per studiare i passeggeri pranzò e cenò in sala da pranzo passeggiò sul ponte frequentò i luoghi di ritrovo ascoltò osservò ma non riconobbe nessuno nel frattempo le intrusioni continuavano patricia se ne lamentò con il comandante che avvertì il commissario di bordo il quale a sua volta iniziò le indagini e fece predisporre una sorveglianza sorveglianza e ricerche vane le impronte di passi sulla cipria che aveva fatto cadere sul pavimento rivelarono a patricia che l'intruso proveniva dalla cabina accanto questa era occupata da un certo andrews forb andrews forb non le diceva nulla inquieta e spaventata pensò che sotto quel nome si celasse il selvaggio o forse è l'uomo che si era battuto contro il selvaggio sul ballatoio di pronto polizia e che l'aveva salvata ma come sapere la verità se il vicino non usciva mai decisa a dissipare il dubbio che la opprimeva si fece accompagnare dal commissario questi bussò alla porta parlamentò e avvalendosi della propria autorità introdusse patricia la donna guardò il misterioso passeggero ed esclamò con stupore incredibile è proprio lei henry chiese al commissario di lasciarli soli henry mccallermy in presenza del commissario si era trattenuto ma quando rimase solo con la donna lasciò cadere la maschera di impassibilità che aveva assunto al giornale e si prostrò pallido e sconvolto ai piedi di patricia confessando tutto la amava l'aveva sempre amata implorava perdono per averla così vilmente abbandonata non poteva più vivere senza di lei sono sono geloso continuò ansimando soffro da morire che significa questa partenza vendicare mio padre è un pretesto è una menzogna lei non viaggia da sola patricia è accompagnata dall'uomo che ama chi è non ne so nulla ma lo saprò la strapperò a lui lei è la sola che conti per me il mio matrimonio è stato una follia io la amo non sopporterò di vederla insieme a un altro piuttosto la ucciderò non posso tollerare questo tradimento stupita della sua malafede patricia si indignò gli disse che il tradimento l'aveva commesso lui che lei si era fidata e gli aveva dato tutto il suo amore viveva solo per lui e per loro figlio invece henry aveva rovinato tutto tutto era precipitato da un giorno all'altro senza ragioni e senza spiegazioni solo una parola su un foglietto addio lei parla di uccidermi senza rodolph sarei morta da un pezzo perdonarla mai o forse sì l'unico perdono che posso concedere è per un passato crudele che non conta più e per una persona che mi è indifferente e non merita nemmeno disprezzo era determinata altera implacabile henry mccullermy con uno sforzo in mane recuperò un po di sangue freddo si rialzò promise di cambiare cabina quel giorno stesso di non importunarla più e rientrare subito a new york appena sbarcati in europa per occuparsi del giornale di sua moglie ordinò patricia l'uomo alzò le spalle no il giornale mi annoia e al di fuori delle mie competenze i redattori associati fra loro faranno meglio di me ho distribuito alcuni incarichi prima di partire sistemerò tutto in modo definitivo e sua moglie da quando ho imparato a conoscerla la detesto si è imposta a me per strapparmi a lei è una ragazza viziata frivola egoista e capricciosa ma il suo posto è vicino a lei la sposata no deve renderla felice è il suo dovere henry protestò pianse la supplicò di nuovo vedendola inflessibile promise tutto ciò che lei esigeva un vigliacco un essere inconsistente e volubile si disse patricia tornando alla propria cabina come ho potuto sbagliarmi a tal punto vedere in lui un uomo degno di essere amato henry mccallermy non era comunque una minaccia quella notte dormì tranquilla la mattina seguente apprese che durante la notte era scoppiata una risa sul ponte tra due uomini uno aveva gettato l'altro a mare poiché nel frattempo era scomparso il passeggero che si faceva chiamare andrews forb tutti pensarono che fosse lui la vittima nessuno comunque riuscì a sapere chi fosse l'aggressore che si era dileguato non c'erano stati testimoni le ricerche tra l'equipaggio e i passeggeri furono vane il mistero rimase irrisolto patricia tuttavia era certa pur senza prove che l'aggressore era il selvaggio aveva eliminato il padre e poi si era sbarazzato del figlio immaginava il selvaggio imboscato tra i passeggeri scrutava tutti i volti ma come riconoscere un uomo intravisto appena in circostanze drammatiche che le impedivano una perfetta visione la giovane donna per quanto coraggiosa avrebbe vissuto ore d'angoscia se non avesse avuto l'impressione irragionevole ma confortante che qualcuno vegliasse su di lei sì chi l'aveva salvata già una volta l'avrebbe salvata ancora nel momento del bisogno era a bordo dell'île de france perché no aveva promesso di soccorrerla di difenderla non era forse onnipotente si appese al collo come un feticcio propiziatorio il fischietto d'argento che le aveva donato pensando che l'avrebbe protetta al minimo segnale di pericolo avrebbe fischiato e lui sarebbe accorso ne era certa rassicurata trascorse tranquillamente il resto del viaggio non accadde nulla come il selvaggio il salvatore rimaneva nell'ombra all'arrivo sulla passerella davanti alla quale si appostò nessun indizio le permise di identificare tra i passeggeri che sbarcavano l'uno o l'altro dei due uomini che occupavano tanto spazio nella sua mente il primo sinistro volgare e temibile con la sua passione tenace e brutale ardita il secondo determinato amichevole e così forte da toglierle ogni paura i progetti di patricia si fondavano sul seguente ragionamento il grande piano segreto di mccallermy lo aveva spinto a programmare un viaggio in francia quindi anche il selvaggio il suo assassino voleva raggiungere la francia sia per mettersi a riparo dalle ricerche della polizia di new york sia per proseguire a proprio vantaggio l'impresa già iniziata forse dopo aver lasciato clandestinamente la nave in inghilterra avrebbe tentato di arrivare in francia per altra via così al havre patricia affittò un'auto per farsi condurre prima a boulogne poi a calais con l'intenzione di osservare gli sbarchi dalla gran bretagna sul finire del giorno a calais un individuo avviluppato in un ampio soprabito con un cappello calato sugli occhi e una sciarpa grigia sulla parte bassa del volto scese dalla passerella sotto il braccio sinistro tra un fascio di giornali e riviste nascondeva un pacchetto avvolto in carta da imballo legato con lo spago le dimensioni corrispondevano alla cartella rubata a mccallermy patricia dissimulata con cura mentre osservava l'arrivo dei passeggeri riconobbe immediatamente la sagoma del selvaggio si incollò ai suoi passi lui prese il treno per parigi patricia salì nello scompartimento accanto a parigi l'uomo scese in un grande albergo nei pressi della gardio nord patricia si stabilì nello stesso hotel e sullo stesso piano era certa che non sospettasse della sua presenza attese per tutto il giorno costruendo piani che mano a mano accantonava la cameriera che si era conquistata le raccontò come il viaggiatore avesse trascorso il tempo semplicissimo aveva dormito per tutto il pomeriggio e aveva chiesto che la cena gli fosse servita in camera non si separava mai da una cartella di pelle color ruggine l'ultima informazione vinse i dubbi e i timori di patricia occorreva agire prima che il criminale si muovesse doveva sottrargli la cartella prima che profittasse dei documenti contenuti o la portasse in un nascondiglio sicuro patricia estrasse dal beauty case una piccola pistola che per difendersi portava sempre con sé nei suoi viaggi e con un'altra cospicua mancia alla cameriera si fece aprire la camera del selvaggio patricia entrò e chiudendo la porta dietro di sé si trovò da sola con l'uomo questi aveva appena finito di cenare si alzò patricia notò l'alta statura l'ampiezza delle spalle il volto massiccio e bestiale che fino ad allora aveva intravisto nell'ombra di un pianerottolo e di un molo e che in quel momento per lo stupore era quasi comico l'uomo si riprese rapidamente e cercò di scherzare patricia è proprio lei che bella sorpresa è gentile a venire a trovare un vecchio amico la prego si accomodi gradisce della frutta un caffè un liquore ma perché prima non mi dà un bacio fece un passo verso di lei che gli puntò la pistola contro non si muova lui rise ma si fermò che posso fare per aiutarla mi ridì alla cartella che ha rubato a me calermi dopo averlo ucciso nello stesso negozio in cui lei era tornato alla fine della riunione degli undici ordinò patricia l'uomo le rise in faccia se ho ucciso per rubare la cartella non sarà certo per dargliela che cosa ne vuole fare continuare l'opera iniziata dal mio vecchio direttore suppongo che tutti i documenti necessari siano nella cartella certo e senza di essi non si può fare niente melidia lei è braccato dalla polizia da un momento all'altro la possono arrestare per due delitti e noi perderemmo per sempre i documenti noi quindi ha consente a lavorare per me bella patricia no per me il giornale cioè per il suo amichetto allermi junior è morto rispose patricia con voce sorda senza poter reprimere un fremito l'hanno buttato in mare il selvaggio alzò le spalle balle qualcuno è caduto in acqua sì e junior lasciando credere che fosse lui si è nascosto tra i passeggeri di terza classe quindi non ha letto gli ultimi cablogrammi da new york allora chi è negato un emigrante italiano espulso dall'america per affari sporchi ha voluto fare dei ricatti e l'uomo che mi ha salvata da lei che l'ha buttato in mare non conosco quell'uomo lei mente aveva detto che era arsène lupin ma non ne ho alcuna certezza forse era lui forse no ma insomma lei vuole la cartella sì e se rifiuto la consegno alla polizia va bene va bene ma prima regoliamo i nostri conti silenzio il selvaggio sembrava esitare alla fine bofonchiò come posso scegliere tra la sua pistola e la polizia mi dia la cartella dove l'ha nascosta sotto il cuscino aspetti vado a prenderla sempre sotto la minaccia della piccola pistola il selvaggio si diresse verso il letto si chinò e di colpo rapido come un fulmine saltò di lato lanciando il cuscino che colpì patricia al viso facendole cadere la pistola di mano il bandito raccolse l'arma e avanzò verso la donna nell'ombra della stanza male illuminata lei percepì l'espressione implacabile e bestiale del suo volto portò alla bocca il fischietto d'argento fermo occhiamo e chi verrà sghignazzò il malvivente chi mi ha già protetto il tuo misterioso salvatore sì arsène lupin credi proprio che sia lui esclamò il selvaggio indietreggiando lo pensi anche tu e hai paura fischia pure ribatte spavaldo che venga ho proprio voglia di conoscerlo da vicino ma era una voglia molto relativa poiché lasciò fuggire la giovane donna patricia si rifugiò in camera sua decisa a fare un altro tentativo l'indomani stavolta avvertendo la polizia se necessario dormì alcune ore e la mattina fu svegliata da un andirivieni e voci concitate quando si alzò apprese dalla cameriera che il selvaggio nel corso della notte era stato ferito gravemente alla testa da una randellata nessuno conosceva l'aggressore che era passato inosservato tra gli arrivi e le partenze degli ospiti grazie alla tessera di giornalista le fu facile partecipare all'inchiesta preliminare del commissario di polizia non ha prese niente di nuovo però rientrata in hotel la cameriera che aveva intuito il suo interessamento si offrì di consegnarle dietro ricompensa il tacuino del ferito nel tacuino patricia trovò una carta d'identità con una fotografia protetta da un foglio di mica sul retro della foto le seguenti parole scritte da mccallermy aperta parentesi m chiusa parentesi trattino polsin e numero 3 una pagina del tacuino indicava l'indirizzo di un certo edgar becker locanda a saint george a portsmouth le altre pagine erano bianche patricia immaginò che edgar becker doveva essere l'aggressore del selvaggio e quindi il ladro della cartella volendo vederci chiaro e sperando di incontrare l'uomo che probabilmente se n'era già tornato in inghilterra con il bottino partì subito per la havre attraversò la manica e arrivò a portsmouth trovò facilmente la locanda a saint george una piccola taverna vicino al porto c'era gran fermento il padrone un uomo grosso rossiccio e chiacchierone la informò che qualche ora prima era stato commesso un delitto edgar becker che alloggiava nella locanda era stato assassinato rientrava da un breve viaggio in francia aveva con sé una cartella di pelle color ruggine chiese patricia cercando di dominare l'eccitazione sì signorina l'aveva nella valigia quando è salito in camera a riposarsi me lo ricordo che cosa sia successo non si sa però perché nessuno ha visto nulla tre ore dopo la cameriera ha trovato becker strangolato e la cartella chiese patricia ho nessuna cartella ma ho trovato un tacquino accidenti mi sono dimenticato di parlarne alla polizia dieci sterline se mi dà il tacquino propose patricia il padrone non ci pensò due volte se lo vuole io non so che farmene dopo tutto becker mi doveva del denaro e non sarà certo la polizia a pagarmi il tacquino simile a quello del selvaggio conteneva lo stesso tipo di carta d'identità firmata da mccallermy e una foto dello stesso formato con questa annotazione m paul sinne numero 4 patricia ritornò in francia si sistemò in un hotel vicino all'arco di trionfo e tre giorni dopo inviò per cablogramma al giornale un articolo che fece grande scalpore negli stati uniti e in tutto il mondo cominciava con queste righe sensazionali quattro delitti sono stati commessi due a new york uno in inghilterra e un altro a parigi in apparenza non hanno niente in comune e non credo che la polizia pur pensandoci almeno per i delitti di new york potrebbe mai scoprire il minimo legame tra loro si tratta invece dello stesso crimine e lo dimostrerò patricia raccontava a questo punto la sua conversazione con mccallermy le ragioni per cui l'aveva pedinato la riunione degli undici nel negozio di piazza della libertà il furto della cartella di pelle la tragica telefonata a frederick fields il viaggio in europa e infine quello che sapeva degli altri due delitti che abilità nel racconto che magistrale chiarezza nelle deduzioni che suspense fin dalle prime righe aveva proprio fatto tesoro della lezione del vecchio mccallermy l'articolo terminava con questa colonna che ne riassumeva tutta la forza e gli dava tutto il suo significato un conciliabolo evidentemente preparato da tempo riunisce undici persone in vista di un progetto che sembra di considerevole importanza e quali sono i primi risultati dello sforzo convenuto tre uomini uccisi e un tentativo di assassinio significa forse che tale impresa può produrre solo crimini furti o ignominia no scaturita dalla mente di due uomini di due amici di indiscutibile moralità e al di sopra di ogni sospetto mccallermy e il procuratore frederick fields ma l'impresa è difficile piena di trappole di pericoli e di ostacoli i due amici devono scegliere i loro soci tra loschi figuri capitani d'industria facendieri gangster di ogni risma di cui mccallermy intuisce le esigenze e gli appetiti segreti quando mi confida supponiamo che io sia stato coinvolto in un'avventura che mi conduca alla morte ed è proprio ciò che accade subito dopo i due uomini sono assassinati i documenti indispensabili per il successo dell'affare sono sottratti ed ecco sguinzagliata nel mondo una banda di belve con ambizioni feroci e uno scopo che le inebria le rende ancora più impietose di conseguenza altre due vittime e non è finita semplice ipotesi direte supposizioni prive di fondamento le prove le serbavo per il finale o meglio la prova perché ce n'è una sola ma irrefutabile come confermerà la polizia di new york è la scoperta delle due carte d'identità che ho recuperato e che appartenevano al selvaggio e a edgar becker ebbene sono convinta che si è trovato o si troverà lo stesso documento tra le carte di mccallermy e del procuratore filz in effetti venuta a conoscenza dell'articolo la polizia di new york cominciò a cercare tra gli incartamenti dei due amici assassinati e scoprì due carte d'identità su cui prima non si era soffermata su quella di filz si leggeva m polsine numero 2 su quella di james mccallermy m polsine numero 1 la prova era stata fornita sulle quattro vittime la stessa indicazione parola d'ordine segno di affiliazione nome di donna soprannome insolito che significava realmente paul la peccatrice mistero mistero completo a ogni modo era lecito supporre che i sette complici sopravvissuti fossero riuniti dallo stesso nome paul sinne preceduto da una m maiuscola e seguito da un numero d'ordine che li collocava nella tenebrosa associazione tuttavia la stessa notte della scoperta i due tacuini appartenenti ai due uomini assassinati scomparvero dalla centrale di polizia come e perché un altro mistero